Ecco dottore, se avete tanti casi di persone che arrivano con le zecche che ovviamente devono essere tolte, qual è il consiglio da dare? Allora, intanto io direi anche un po' di prevenzione perché in fondo spesso li prendono a tutte le età andando nei prati, nei boschi, anche banalmente a fare una passeggiata, quindi a volte non è colpa nostra perché le zecche devono trovare dove attaccarsi. Quindi quando troviamo una zecca sicuramente bisogna stare attenti a come rimuoverla, se vogliamo rimuoverla da soli, noi abbiamo molti accessi per rimozione di zecche perché la zecca non va mai tirata, va presa con una pinzetta, girato in senso anti-orario in maniera che lei si dice impazzisce e quindi apre le zampette e si stacca. Perché se io la tirassi, come spesso capita, potrebbe rimanere il rostro della zecca nella cute e questa può fare delle infezioni sistemiche anche molto gravi, ne abbiamo avuti anche dei casi che poi vanno a ricovero anche in malattie infettive. E non solo, è assolutamente mandatorio che quando comunque c'è un morso di zecca si abbia sia l'antitetanica e qualora non si avesse segnalarlo per fare le immunoglobuline e spesso va fatta anche una protezione antibiotica, con un antibiotico ad ampio spettro proprio perché le zecche hanno un potere infettivo importante. Invece il ragno violino? Anche il ragno violino diciamo che è comunque uno di quegli arachnoidi da noi rischiosi perché dà un morso tipico, quindi fondamentalmente soprattutto i colleghi delle malattie infettive ma anche noi quando c'è il rischio che si sia stati morsi da ragno violino si vede perché spesso fa una zona necrotica, una zona nera dove avviene il morso e anche questo spesso va a ricovero proprio per un'infezione da punto di vista sistemico che può sviluppare. Ma questo è un po' come molti insetti insomma e altri esseri viventi che per noi non sono saprofiti dobbiamo stare attenti insomma possono scatenare infezioni sistemiche importanti poi variano a seconda dell'area geografica comunque dove ci si trova. Ecco appunto se rientro da un viaggio all'estero è un bel febbrone bisogna correre in pronta soccorso. Eh diciamo che il sospetto che possa aver preso qualcosa deve venire a seconda della zona dove sono stata chiaramente saprò se era indemico o meno qualche plasmodio o le famose ricchezze che sono sempre tipo delle zecche diciamo e quindi sì abbiamo la possibilità già in pronto soccorso di fare degli esami in urgenza per escludere ad esempio la malaria però il sospetto sì nei viaggi all'estero deve venire ma deve partire prima del viaggio cioè la prevenzione se c'è l'indicazione o meno a dei vaccini assolutamente sì vanno fatti.